Dylan Dog 430 bis, la strage silenziosa Grazie, e ci voleva dando Wobalaba dab dab e bentornati su No Mamamazzo Bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Dylan Dog Dove mensilmente, in questo caso anche due volte al mese Parliamo dell'indagatore dell'incubo londinese Oggi parliamo del 430 bis Già l'anno scorso c'è stato un bis sempre a luglio E squadra che vince non si cambia, lo hanno fatto anche quest'anno Non ricordo se l'anno scorso il numero bis andava in concomitanza di uno dei tre numeri con Vasco Rossi Fatto sta che... ma però non credo Perché ricordo che mi era piaciuto di più il bis della serie regolare E quelle di Vasco Rossi mi sono piaciute Quindi non lo so, forse non era in quel periodo Fatto sta che anche quest'anno il numero bis è molto più bello dell'originale Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto Vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video E anche a tutti gli altri che vi frega di condividere il video con tutte le persone che fanno il bis E di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo numero, di questo video E seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch Per vedere quello che faccio oltre a YouTube Per esempio, stasera alle 9 faremo su Twitch una live a tema cosplay E parleremo un po' della fresca fresca fiera appena passata Rimini Comics 2022 Quindi se volete fare un saluto anche sul sito Viola, vi aspettiamo Se seguite già il mio canale sapete che il numero 430 purtroppo è stato uno dei numeri Che mi è piaciuto meno da quando parlo di Dylan Dog su questo canale Quindi da più o meno dall'inizio del ciclo della meteora No, in realtà è dal 399 che parlo di Dylan Dog su questo canale E ho anche fatto alcuni retro Dylan, quindi insomma ne parlo da un po' Se volete sapere perché non sto a ripeterlo qui Andate a seguire il video, ve lo metto qua magari nelle schede, qua in descrizione Questo invece, questo numero, il numero bis Ha tutti gli stilemi necessari perché una storia funzioni Quanto meno a mio gusto questo Dylan è perfetto Manca solo una cosa che io solitamente adoro Graucio Marx, graucio manca Ma ci può stare, in questo contesto va benissimo Dylan Dog in solitaria Tra l'altro è molto divertente che Graucio sia in vacanza in una storia che esce a luglio Se fanno questa chicca ogni luglio sarebbe divertente vedere che nel numero di luglio manca Graucio Magari nel numero di luglio, nel numero di dicembre manca Graucio Sarebbe molto divertente piuttosto che farlo mancare magari in alcune storie sì E in altre invece c'è Però so che sono delle finezze un po' troppo esagerate da pretendere Però mi è piaciuta questa cosa Il numero si apre in modo molto veloce, in modo molto cinematografico Devo dire che se non sapessi che lo hanno scritto la Porretto e l'Americone Avrei pensato che l'avesse scritta Recchioni stesso Perché appunto c'è questo taglio molto veloce, molto cinematografico Che ti porta subito all'azione Che è come dovrebbe essere un Dylan moderno Poi per carità ci stanno dei Dylan dove c'è tanto racconto E dove c'è quel sapore retro con tanti dialoghi Ci stanno anche quelli ma dato che quelli non riescono a farli bene A sto punto andiamo sul moderno Sia la storia, sia le tavole, le inquadrature Sono davvero dinamiche, hanno un taglio molto moderno E mi è piaciuto anche dal punto di vista grafico Dal punto di vista del disegno ho apprezzato molto di più questo numero Il numero ha dei bianchi e dei neri molto netti E sembra davvero sia un numero molto moderno Ma anche un numero molto anni 80 per come lo hanno disegnato Vi faccio vedere tra tutte una tavola A caso, come vedete la griglia è abbastanza classica Ma guardate questo quadro di inquadratura dove Dylan è al contrario Ve la faccio vedere così, così si nota meglio È un'inquadratura dall'alto del suo studio È un'inquadratura rettangolare, verticale Molto stretta ed è a rovescio E non è un'inquadratura fatta così a caso Ma è rovescio perché è dal punto di vista del fantasma che sta guardando Dylan Quindi anche a livello narrativo ha un senso questa tavola Ed è tutto fatto in questo modo Ci sono dei tagli davvero davvero spettacolari L'ho gradito tantissimo Mi ha anche ricordato alcune inquadrature di Dylan Dog Vittima degli eventi che poi a sua volta sicuramente si sarà ispirato a delle tavole di Dylan Dog Parlo ancora due minuti della parte grafica, della parte visiva È molto splatter questo numero e l'ho apprezzato Come sapete se mi conoscete da tanto a questo proposito Io non amo lo splatter a livello cinematografico ma lo adoro in Dylan Dog Lo adoro nei fumetti Questo numero è splatter e davvero mi ha fatto saltare sulla poltrona un paio di volte Una è la scena dell'incubo che fa uno dei bambini rapiti Tra l'altro una scena fantastica perché non ti rendi conto che è un incubo finché non se ne rende conto il bambino Quindi il personaggio E quindi tu stesso insieme al personaggio ti spaventi perché non sai cosa sta succedendo E la sospensione dell'incredulità a quel punto della storia, circa pagina 44 È portata a un punto tale che questa cosa potrebbe benissimo essere reale come potrebbe essere benissimo un sogno Dato che appunto nella storia c'è anche un fantasma Quindi perché no, perché non vedere un bambino zombificato tra virgolette Ecco questa parte mi ha davvero spaventato L'altra parte è la parte con i feti appesi al soffitto Davvero davvero forte da vedere e finalmente Dylan osa un pochino come faceva nei suoi fasti Questo numero è Dylan puro E da questa affermazione voglio andare a dire la mia anche sulla trama di questo numero Innanzitutto una cosa che io adoro è quando Dylan non capita a caso negli eventi che succedono Quindi c'è appunto una sequenza iniziale molto ritmata dove Dylan sembra che stia per investire la protagonista femminile E subito io ho alzato gli occhi al cielo e ho detto Oh no, non voglio che Dylan di nuovo si imbatta a caso in una persona Non ha senso, è un investigatore privato, lo devono contattare E invece subito si rivolta la medaglia quando vediamo che Dylan trapassa questa ragazza Che si scopre subito essere un fantasma e si scopre che Dylan la stava cercando Perché tutto il vicinato aveva ingaggiato Dylan per cercare questo fantasma E quindi Dylan deve aiutarla a andare oltre, no? Quello che si fa con i fantasmi per farli andare via Un inizio molto simpatico qua anche finalmente una volta tanto Sono le persone normali che ingaggiano Dylan per qualcosa di classico come acchiappare un fantasma Però la frittata si rivolta in fretta più e più volte in questo numero Ed è questa un po' anche la forza di questo numero Un presupposto molto semplice che apre degli scenari orrendi Perché sono orrendi? Perché mi riferisco come sempre appunto a uno dei temi classici di Dylan Dog Ovvero il fatto che tratti delle mostruosità odierne, delle mostruosità reali della vita di tutti i giorni E le tratta con una piccola spruzzata di paranormal, una piccola spruzzata di horror Ma sono tutte faccende reali Mi riferisco alla violenza sulle donne C'è apertamente, questo numero parla apertamente dell'ex compagno della protagonista fantasma Che percuoteva la compagna Quindi inizialmente ti porta anche a pensare che il fantasma possa essere morto per queste percosse Poi però si scopre che queste percosse invece hanno avuto un altro risvolto sulla protagonista Ovvero sul farle perdere un feto in grembo Farle perdere quello che poteva essere il suo bambino o la sua bambina Lei è convinta che sarebbe stata una femmina E questo scopriamo che questo non la uccide fisicamente Tant'è poi abbiamo scoperto come è morta in realtà Ma in un certo senso le ha tolto la gioia di vivere Le ha tolto la vita da un punto di vista metaforico Che però è anche molto letterale Perché quando non hai più qualcosa per cui vivere È come se tu fossi un fantasma E mi è piaciuto molto questa analogia tra il fatto che lei è un fantasma a tutti gli effetti Ma è anche un fantasma per quello che le è capitato Quindi questo numero in un certo senso non parla di femminicidio Perché non c'è stato un vero e proprio femminicidio Ma ci si è andati molto molto vicini Proprio appunto a causa della violenza Che il compagno di questa fantasma ha perpetrato su di lei Si verte poi su un altro argomento altrettanto scabroso Altrettanto stigmatizzato Che è la depressione post parto È chiaro che questa donna ha avuto una sorta di depressione Ovviamente il parto è stato un aborto in questo caso Ma ha avuto una depressione perché ha perso la sua bambina E quindi ha avuto un risvolto davvero negativo questa sua depressione Come abbiamo visto nel finale di questo numero E questo ci porta anche a fatti di cronaca davvero efferati Che purtroppo continuiamo a sentire Quindi madri che infliggono sofferenze ai propri figli In questo caso non erano magari i propri figli Però diciamo che l'analogia è molto molto palese Una madre che perché ha un qualche tipo di depressione post parto O perché chissà quale motivo Fa in modo che il figlio ci lasci le penne O in questo caso si parlava di negligenza Perché non li stava curando Li stava tenendo in ostaggio Ammetto che in una battuta iniziale tra Dylan e la fantasma Questa cosa io l'avevo un po' intuita Poi però la storia ci porta appunto su altri lidi Quindi sul compagno eccetera E quindi mi hanno un po' depistato Però alla fine quando salta fuori la verità Ho detto ah ok però all'inizio questa cosa sembrava Effettivamente quello che poteva essere il finale di questa storia E così è stato Ma la ciliegina sulla torta di questo numero È anche in un certo senso l'epilogo È un finale molto molto forte Così forte che ha portato il protagonista Dylan A riattaccarsi alla bottiglia E sì perché Dylan alla fine è di fronte a un bivio Innanzitutto è molto triste di aver scoperto Che questa ragazza che per carità era un fantasma Ma si sa che Dylan si innamora di ogni donna che incontra Quindi questa ragazza per la quale si era molto affezionato In realtà era il villain di questa storia Quindi già questo lo potrebbe portare ad attaccarsi a un bicchierino Ma Dylan ne ha viste di cose nella sua vita Non è certo la prima volta che gli può capitare una cosa del genere Vedi Anna Never per esempio che si è rivelata il villain Nel reboot ovviamente Ma qua c'è anche qualcos'altro che lo fa attaccare alla bottiglia Il fatto che lui sa esattamente dove si trova l'ex compagno della fantasma E deve scegliere, deve fare una scelta Se dirglielo e quindi condannarlo a un'esecuzione da parte di un fantasma Condannarlo a morte oppure non dirglielo Ma non lasciare, non dare pace appunto a questa fantasma La decisione di Dylan che in questo numero come in altri Non è un eroe senza macchie e senza paura Ma è un essere umano che vuole giustizia per questa donna Condanna in un certo senso a morte il compagno Dicendole dove si trova E la fantasma ovviamente con i suoi poteri di fantasma Fa quello che deve fare Ovvero fa causare un incidente Vendicandosi del suo compagno Che dire, se questo numero ha un difetto Per me è quello che mi è finito subito L'ho adorato Vorrei leggere altrettanti numeri così Sono felice perché già il mese scorso, nel mese di giugno Dovrei aver detto qualcosa del genere Sul fatto che appunto ho apprezzato davvero Il numero della serie regolare A parer mio, ripeto, a parer mio Il 430 è stato uno scivolone Perché diciamo che segue un po' La linea filosofica dell'autore Che però a parer mio non si sposa bene Con il Dylan Dog moderno che dovrebbe essere Mentre questo numero è il Dylan Che dovrebbe essere da adesso in poi Non mi dispiacerebbe anche se ci fosse un collegamento Tra una storia e l'altra Ma so di chiedere troppo Tra l'altro è percepibile che questa storia è recente Che questa storia è post-reboot Che questa storia non è stata riciclata Come stanno ancora riutilizzando tutte le storie Dei Dylan pre-ciclo 666 Questa è chiaramente stata scritta dopo C'è Rania, c'è Carpenter C'è Block che è alla scrivania È il soprintendente Quindi non è in pensione Quindi è chiaramente stata scritta post-meteora E si sente tutta la freschezza Di questa storia Io non vedo l'ora che esauriscano le storie Che avevano preparato prima del soft reboot E inizino a sfornare questi gioiellini Perché sono davvero stanco Di vedere Dylan che non ha più il sapore di un tempo Non ha più il sapore di quello che potrebbe essere in questa storia E questa storia ci dimostra che Dylan non è passato di moda Dylan non era meglio una volta Dylan sa essere meglio anche in questo In un numero così Se solo si dà una bella rinfrescata Che però purtroppo C'è tanta pulizia da fare in Bonelli Sulle vecchie storie Che non hanno ancora questo taglio così moderno Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia Fatemi sapere cosa ne pensate della mia opinione Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine Con l'inchino e con l'imbuto vi saluto E vi dico arrivederci al prossimo video O alla live di stasera